Allora, chiedo scusa, c'è un cambio di programma, Mimmo Franzinelli mi chiede di poter fare immediatamente dopo l'intervento del Ministro Rognoni la sua relazione storica, quindi prego il coro di rinascita di pazientare ancora qualche minuto, questo per consentire a Mimmo Franzinelli di tenere l'inquadramento storico, particolarmente della fase spesso fraintesa dell'arresto di Ferruccio Parri. Grazie, io mi soffermerò su un aspetto, sull'aspetto milanese di Parri che credo sia stato trascurato, un torinese trapiantato a Milano, ci arriva dopo l'esperienza per lui fondante e dolorosa della Grande Guerra dove è mutilato e pluridecorato e quindi arriva qui alla fine del 1922, ci arriva come insegnante, questa è una sua importante caratteristica, in una scuola tecnica da prima alla Fusi e poi dal primo gennaio del 1923 insegna lettere al ginnasio del Parini. E' un Parri che alla didattica affianca l'attività culturale come redattore del Corriere della Sera. Il Corriere della Sera aveva come caporedattore Alberto Tarchiani, grande figura di antifascista e uno straordinario direttore Luigi Albertini, era davvero un laboratorio, una fucina di giornalismo antifascista, di giornalismo libero. E Parri nel 1924, come sappiamo è l'anno della crisi Matteotti, chiede e ottiene aspettativa per due anni dalla scuola ed è interessante la motivazione della sua domanda. Gli impegni di lavoro che mi hanno indotto a questo passo sono per me così importanti ed impellenti che io non potrei venire loro meno senza gravissimo danno personale. Ed essi sono così assorbenti da mettermi nella materiale impossibilità di poter fare scuola. Quindi in quel momento Parri doveva testimoniare con il suo impegno culturale l'impegno appunto per la democrazia in una fase in cui si preparava la didattura fascista perché c'era ancora un governo di coalizione che proprio nel 1924 viene spazzato via da elezioni truccate che Matteotti denuncerà e per questo verrà assassinato. Quindi giornalista nel Corriere della Sera, poi il settimanale Il Caffè che è molto importante perché è la eredità del risorgimento. E anche un giornale oggi dimenticato Volontà, un settimanale degli ex combattenti democratici. E infine La Patria che era un giornale sempre di combattenti di area lombarda. E dopo di che nel 1925 si chiudono anche per Parri gli spazi di attività giornalistica, deve andarsene via calciato Albertini che era direttore proprietario e non viene più concesso il rinnovo dell'aspettativa e Parri viene dichiarato decaduto dal servizio. E' evidente, va da sé che nella scuola fascista Parri non ha spazio, Parri non vuole rimanerci. E a questo punto la sua è un'attività semiclandestina insieme a un'altra grande figura, quella di Riccardo Bauer di Milanese e un altro docente che insegna a Bergamo di origini fiorentine, Ernesto Rossi. Loro ed alcuni altri, tra cui Umberto Ceva, cominciano nascostamente a fare una certa attività di propaganda, diremmo forse oggi di controinformazione, insieme anche a Carlo Rosselli che dirige un foglio, il quarto stato. Nel 26-30 giugno nasce il figlio Giorgio, per cui gli impegni di famiglia si accrescono. E Parri è un riferimento per figure come quella di Gaetano Salvemini, che lui pure lascia all'insegnamento e viene arrestato per un foglio clandestino, il non mollare fiorentino, e processato, perché era reato da rinformazioni non di regime nel 25, ma trova un giudice, diciamo, di scuola liberale, che al processo gli concede nelle more processuali la libertà provvisoria. A quel punto è chiaro che o ne approfitta o ci sarebbe un secondo delitto Matteotti. E difatti viene a Salvemini a Milano come tappa per l'espatrio in Francia e proprio qui va in Casa Parri, dove si tiene una riunione di cui Salvemini parla in un libro straordinario di memorie. Dai ricordi di un fuoriuscito, che raccomanderei soprattutto ai giovani, molto stringato e incisivo. Dopodiché Parri organizza a Milano e da Milano l'espatrio di Filippo Turati nel dicembre del 26 in Cosica, insieme altro organizzatore a Carlo Rosselli. Vengono entrambi arrestati al rimpatrio perché vogliono tornare qui per proseguire questo lavoro. C'è il famoso processo di Savona, il confino a Lipari e poi quando verrà concessa la libertà vigilata dopo il confino, il ritorno a Milano oramai si sente milanese, dove c'è un nuovo arresto all'ottobre del 30, grande retata contro giustizia e libertà, condanna cinque anni di confino, dopo tre anni torna di nuovo a Milano. E qui Parri diventa un grande tecnico, collabora al giornale degli economisti e alla rivista di statistica, direttore Giorgio Mortara. Lavora poi nel 34 viene assunto all'ufficio studi per i problemi economico-statistici della Edison, per cui è un fior di tecnico. Nel 37 verrà nominato direttore dell'ufficio studi. Arriviamo poi al 42, il 42 è un nuovo arresto, per cui pensate che vita direi in libertà provvisoria sostanzialmente, in quanto viene arrestato, ispiratore di giovani antifascisti, direi che gli fa veramente onore questo. Nove mesi di carcere e poi di nuovo libertà provvisoria, riprende il lavoro e i contatti clandestini a fine 42 per la rinascita del partito d'azione. E poi la resistenza, ecco lui ha un punto fermo, la resistenza la deve fare a Milano, la deve dirigere proprio da Milano e non è l'unico perché è importante ricostruire il reticolo di collaborazioni. Molti suoi collaboratori perderanno la vita e proprio nel loro nome ci sarà un lascito morale molto presente in pari in termini di imperativo morale. Citiamone alcuni. Poldo Gasparotto, che gli è proprio a fianco il 9 settembre del 43, a chiedere al comandante della piazza di Milano, un generale fellone, la consegna delle armi e lui dopo averle promesse in realtà le passa ai tedeschi. Gasparotto verrà arrestato, internato a Fossoli e assassinato dalle SS. Ha lasciato, pubblicato posto, un diario straordinario da Fossoli. Giuseppe Pagano, grande urbanista e architetto dalla prima età del novecento socialista, anche lui verrà arrestato, passerà a Milano nelle carceri della banda Koch, torturato e poi l'internamento dapprima a Bolzano e poi a Mauthausen e morirà all'inizio dell'aprile 45. Le ultime energie saranno per un messaggio, un messaggio veramente commovente, vi leggo solo una frase, sono stato stroncato dalle violenze, avevo tanti sogni. tanti progetti e speranze quasi certe. Finito, punto esclamativo. A voi continuare bene e meglio. Ecco questa eredità è proprio impersonata da Maurizio che aveva anche collaborato con Mario Greppi, socialista, assassinato dai fascisti, suo padre Antonio diventerà sindaco della liberazione a Milano oppure architetti come Gianluigi Banfi. Quindi sono tanti questi personaggi e io temo dimenticati oggi da Milano e rappresentano la parte migliore della Milano democratica. L'arresto, sull'arresto diciamo ancora una cosa su Milano. Milano è una città ibrida, c'è la Milano di Parri senza altro, ma c'è anche la Milano di Mussolini dove viene fondato nel 15 il popolo d'Italia, da dove il 23 marzo del 19 si fondano i fasci di combattimento, da dove Mussolini da Milano dirige la marcia su Roma e proprio per venire alla resistenza, mentre Maurizio è qui a organizzarla, Mussolini esce dalla ridotta di Salò proprio a metà dicembre del 44 per un discorso che farà l'epoca al teatro lirico e lì si vedono diciamo le due Milano, quella fascista, collaborazionista e quella democratica. Per cui ci sono questi fili, queste contraddizioni dentro la storia della città. L'arresto l'abbiamo sentito da Turipano e dal nipote, anche con il ruolo poi di Sonio, ma vediamo la ripresa dell'attività perché io cerco di innestarmi dove c'è stato qualche piccolo voto. La ripresa dell'attività è preconizzata, premesso che lui verrà liberato nell'ambito delle complesse trattative per la conclusione della guerra perché i più lucidi capi tedeschi in Italia avevano ben compreso che le prospettive erano di salvarsi la vita e Maurizio diventa una pedina in questa partita molto complicata. Per cui il 25 marzo del 45 scrive al vice comandante delle formazioni EGL, Fermo Solari, una lettera della quale cito solo la frase centrale perché torniamo all'aspetto milanese molto vivo in Ferruccio, Parri. Mi trovo ora nell'alternativa di decidere tra un prossimo ritorno tra voi e un viaggio giù, giù oltre le linee. Per questo secondo sono sollecitato da una precisa e personale ragione di responsabilità morale e da un invito a conversazioni nel campo militare e politico prospettate come di molta urgenza e utilità. Il mio punto di vista è di preferire il lavoro più modesto ma più preciso e utile di Milano a quello più generico e incerto di Roma. Direi quasi, e poi sentirete anche nella seconda parte del mio intervento, che rispetto a Roma c'è una diffidenza che ritorna e riaffiora più volte. È quasi incredibile perché da 2012 sempre quasi di dargli in modo retrospettivo ragione su alcuni vizi nazionali, adesso non voglio generalizzare, che però trovano alcuni aspetti anche nella capitale. E quindi resta a Milano, dirige da Milano e a Milano assiste impotente, devo dirlo schifato, a Piazza Loreto all'Udibrio dei cadaveri di Mussolini e dei Gerarchi ed è famoso il suo giudizio e secondo me gli fa onore dice è una macelleria messicana della quale non ce n'era bisogno. E anche Valiani, importantissimo direi il suo braccio destro politico concorda con questo giudizio. Sappiamo naturalmente cosa era successo nell'agosto del 44 a Piazzale Loreto, l'essenza del collaborazionismo con la fucilazione ordinata dai tedeschi ai loro servi fascisti di ostaggi, tratti partigiani antifascisti dalle prigioni e quindi assolutamente innocenti rispetto all'atto che veniva imputato alla resistenza. E siamo nella fase, chiamiamola la fase più direttamente politica di Ferruccio Parri, i sei mesi passati al governo ed è un governo che con il senno di poi noi vediamo come un governo di transizione in sostanza tra la fine della guerra e il ritorno a una vita ordinata, costruttiva, il che non è poco dopo una guerra del genere e l'Italia, ricordiamolo, era in guerra dal 1935, Mussolini aveva tenuto l'Italia in guerra dal 1935 in modo ininterrotto in Abissinia, in Spagna, in Albania, in Grecia, in Russia, in Francia eccetera eccetera. Per cui il momento è decisivo per la costruzione, le fondamenta stanno senz'altro lì e c'è molta aspettativa. In una lettera di un grande fuoriuscito Gaetano Salvemini, il 4 giugno 1945, quindi diciamo nelle more del costituendo governo Parri, scrive a Ernesto Rossi, dice io non tornerei mai nell'Italia, sono stato all'estero, ho visto un'apertura mentale, possibilità per uno studioso di accedere a biblioteche, ad archivi eccetera in Italia, l'Italia è una provincia, ma dice farei solo un'eccezione, sarei disposto a rinunziare a tutto questo e a tornare in Italia, farei un'eccezione e butterei tutto per aria in un solo caso che Ferruccio Parri diventasse Presidente del Consiglio e avesse bisogno che io andassi ad aiutarlo a Roma preparando progetti di legge, facendo studi, aiutandolo con tutto quello che io posseggo di cultura, è un giudizio oltremodo lusinghiero. La risposta di Ernesto Rossi è un'altra risposta molto significativa perché a questo punto Parri, noi oggi diremmo al potere, ma lui non si sentiva al potere, si sentiva davvero al servizio della nazione e Ernesto Rossi in questa risposta fa la fotografia delle difficoltà che Parri doveva affrontare in modo quotidiano. non puoi immaginare come sia difficile costruire una democrazia senza democratici perché dopo vent'anni di dittatura era un po' problematico. Tutti i quadri dirigenti dell'Italia sono stati fascisti e non si può fare a meno di loro e le masse popolari sono permeate di spirito fascista, questo lui lo diceva perché mentre era regina Cieli gli giungeva l'eco degli applausi delle adunate oceaniche, per cui Rossi non si faceva illusioni da questo punto di vista. Ecco il giudizio che Ernesto Rossi dà su Parri statista. Se tu potessi seguire ora per ora quello che Parri fa, se avessi modo di conoscere la serietà con cui studia tutti i problemi, la sua infaticabilità, il coraggio col quale affronta tempeste su una barca che fa acqua da ogni parte, credo non potresti fare a meno di condividere la nostra ammirazione. Parri, uomo di Stato, è per noi suoi amici una sorpresa, quasi un miracolo. Non ci aspettavamo tanto da lui. Credo che nessun altro sarebbe riuscito a orientarsi in così poco tempo, a mantenere l'equilibrio in situazioni così difficili, in cui le cose sembrano di tanto superiori alla volontà degli uomini, che nessun altro sarebbe riuscito a impersonare così bene le ragioni ideali dell'antifascismo. E poi c'è un giudizio che è veramente profetico. Molto facilmente lo sparuto gruppetto degli antifascisti italiani sarà sommerso dagli uomini qualunque e senza partito o appartenenti a diversi partiti. Ma chi non misura gli uomini col metro del successo giudicherà Parri come uno degli uomini più grandi di tutta la storia d'Italia, anche se scomparirà dalla scena politica alla prossima crisi ministeriale. E a fine anno questo esperimento di un governo di transizione viene meno anche perché Parri non ha dietro un partito strutturato, un partito di massa e il partito d'azione, giustizia, libertà era più che altro una aggregazione di anime elette, di intellettuali, di tecnici che in molti casi rifugivano dal populismo, dalla demagogia, non facevano promesse facili e quindi era problematico essere votati. E Parri si sente rappresentante della resistenza, del rinnovamento della nuova Italia. Al momento direbbe lui di bere l'amaro calice il 20 giugno durante le trattative per la nascita del governo è a Roma e vuole sfogarsi. Quindi scrive alla moglie, caro Pucci, non mi è riuscito nemmeno ieri di mandarti due righe. Si smette di fare riunioni dopo mezzanotte, si ricomincia alle otto, sono pentito di aver accettato, mi rincresce di essere bene o male riuscito a combinare un governo. A Roma un uomo sincero ha la fortuna di un cane rognoso. Non è solo questo genere di fatica che per me è più che ostica, queste giornate di contrattazioni mi hanno lasciato un mal di stomaco che non passerà presto e le prospettive sono quasi angosciose, dato che si deve arrivare a un certo punto e non si deve fallire. Adesso è come se fossi di nuovo in galera, per voi. Ho nostalgia della nostra vita, delle facce milanesi da morire. Saluto agli amici, ringraziali per il loro affetto. Di loro che mi compiangono molto più che fossi a San Vittore. Non mi occorre per ora nulla, addio cara. Le dimissioni. Le dimissioni lui le dà e la cosa farà scalpore, perché era assolutamente il rituale, le darà in una conferenza stampa dinanzi al CLN, perché lui si sentiva esponente del CLN. D'altronde, riflettiamo brevemente, non c'era stata la possibilità di andare a elezioni democratiche, per cui in quel punto, seconda metà del 1945, la domanda era chi rappresentava chi? E Parri rappresentava la resistenza. Ecco il significato di questa sua importante investitura. E poi scriverà, riferendosi a quella estate torrida, in cui l'Italia era un cantiere in costruzione, ma poteva anche andare decisamente male. Soffiava il vento del nord, che impermalì tanti generali e burocrati di Roma e gentiluomani del sud. Delusione. Certamente il Parri, uomo di governo, ne uscì deluso da quell'esperienza. Deluso ma non bruciato. Delusione numero uno. Qui cito una sua riflessione autobiografica. La delusione che, debitamente corretta, si potesse ripetere a Roma l'esperienza che nel nord, nonostante tutti gli attriti, ci aveva permesso la vittoria. Delusione numero due. Credevo che le semplici parole di libertà e di giustizia, accettate come linguaggio comune da tutta la resistenza, dovessero aprire la costituente. Era un discorso che i politici romani preferivano scartare. Tuttavia non fu un'esperienza fallimentare, anzi fu l'esperienza veramente di un ponte, per citare l'importante rivista fiorentina, nella cui area Parri si riconosceva. Perché? Perché ci furono delle realizzazioni, per cui non guardiamo solo a quello che Parri come politico non riuscì a costruire, ma a quello che realizzò. Vale a dire, realizzò in quei sei mesi, un'esperienza in cui il risorgimento e la resistenza riuscirono a porre le fondamenta della nuova Italia. Si preparò anche la elezione della Costituente e quindi anche l'apertura alla Repubblica. E di conseguenza io credo che in un bilancio della breve stagione governativa di Parri, certo se noi usiamo come metro il successo, il potere, il giudizio non è sufficiente. Ma se usiamo invece come metro la testimonianza e quello che è riuscito a seminare per la tenuta, per l'accusazione della democrazia, la situazione è diversa. E adesso vi dirò una cosa che è dello stupefacente. Nel 1948, in previsione del 18 aprile, quando l'Italia era calamitata attorno a questo enorme scontro elettorale tra due blocchi, tra due sistemi, tra due ideali inconciliabili, Parri cosa fa? Parri organizza un convegno qui in Bocconi, proprio il 3 aprile del 1948, che è emblematico del modo che lui aveva di concepire la politica e la cultura. Per cui, pensate, invece di fare comizi, faceva convegni e in Bocconi. E ho trovato, c'è una lettera molto interessante del rettore dell'università, il professor De Maria, che in risposta alla domanda di concessione dell'aula, gli pone tre condizioni, visti i tempi. Prima, che sia un convegno a scopo puramente culturale, vale a dire occasione di studio di problemi economici e politici. Due, la partecipazione sia a inviti. Tre, oratori predisegnati che si attengono al punto primo. E l'oratore che si attenne al punto primo era proprio Ferruccio Parri. La sua relazione era di apertura verso i giovani e spiegava, interpretava la storia italiana nei suoi aspetti di deficit come risultato di una carenza della terza forza, appunto, sganciata dalle due ideologie, diciamo, predominanti. E quindi è una pagina interessante della storia di Parri, della storia della Bocconi, della storia del Milano. Quindi, invece di fare lo scontro sulle piazze, faceva il convegno al chiuso della Bocconi. Nella guerra fredda, nella guerra fredda, la scialuppa del partito d'azione non poteva salpare, quindi fece subito naufragio. Ma Parri a quel punto guardò in avanti e Parri diede prova di essere un grande organizzatore, direi addirittura preveggente. A Milano, l'8 gennaio del 49, ci fu una riunione presieduta da lui per fondare l'Istituto Nazionale di Storia del Movimento Nazionale di Liberazione, che oggi è presieduto dal professor Valerio Unida, che poi ascolteremo con attenzione, e il suo predecessore era Oscar Luigi Scalfor. Per cui abbiamo Parri come iniziatore di questo importantissimo istituto che doveva raccogliere, serbare, valorizzare, interpretare le testimonianze della resistenza. Ma sempre in quel periodo, tre giorni più tardi, costitui la Federazione Italiana delle situazioni partigiane, rifiutando la logica della guerra fredda, perché all'epoca Lampi era schierata con il Partito Comunista. Anche questa seconda istituzione è oggi vitale e abbiamo il presidente Mario Artali. E sempre a Milano, andiamo avanti di alcuni anni, il 28 febbraio del 54, ci fu un fondamentale convegno sul passato e avvenire della resistenza, aperto da Parri, con relazione di Piero Calamandrei. Quindi vedete che a questo punto Parri è a Milano, ma a Milano organizza iniziative non localistiche. Ecco il pregio della sua attività milanese. Dopodiché quando il Paese attraversa situazioni di emergenza, Parri c'è. Parri c'è, abbiamo sentito il relatore ministro Rognoni, rispetto all'involuzione dell'esperimento Tambroni, ed è vero c'è in rapporto sinergico col segretario della DC Aldo Moro. E c'è poi nel denunziare le manovre sotterranee contro il primo governo Moro di centro-sinistra. Ed ecco che quella commissione che sempre Rognoni ricordava, tra 68 e 69 sul Sifar, la commissione Alessi, ebbe pari. Pari perché si dimise, fu costretto a dimettersi, perché ci fu una battaglia delle destre. Siccome era stato citato come testimone dinanzi a quella commissione, perché lui effettivamente aveva svolto un'attività di informazione e di denuncia, praticamente fece un passo indietro per consentire alla commissione di lavorare fuori da un clima di polemiche. E concludo dicendo che Pari in Italia ha avuto illustri e misconosciuti precursori, protagonisti della vita nazionale già da risorgimento e poi accantonati dall'Italia legale. Ricorderei per tutti Carlo Cattaneo, lui pure studioso di economia, quindi grande tecnico e grande repubblicano. Ed oggi c'è il problema dell'attualità di Pari, che io credo sia la realtà ad imporlo, perché Pari alla fine nella sua esperienza politica cosa ha dimostrato, cosa ha percepito? Che c'era uno scollamento pericoloso per la democrazia tra la morale e la politica. E Pari ha testimoniato, e nessuno è riuscito su questo punto a criticarlo, di impersonare da politico l'onestà, la coerenza. E quindi oggi, momento di transizione, momento di grave crisi, ma attenzione nel 1945 la crisi era ancora maggiore, l'Italia era ancora più a terra. Allora il pensiero di Pari cosa ci può aiutare? Ci può aiutare il suo esempio sul piano personale e sul piano del politico austero che dormiva nella brandina quando era Presidente del Consiglio dei Ministri all'inizio. L'insegnamento morale è la sua grande eredità ideale.